È un altro tassello sul progetto iniziato tre anni fa e che vede oggi nella provincia di Arezzo 350 defibrillatori distribuiti nei luoghi di ritrovo, negli ambienti aperti come questo, nelle scuole e in tanti altri siti. In effetti siamo estremamente soddisfatti perché oggi la nostra provincia è una delle province all'avanguardia in questo settore nel campo nazionale. Il progetto che completerà i defibrillatori, che è il progetto Allerte, che consiste nel collegamento telefonico tramite invio di un impulso a tutti i telefonini di coloro che hanno fatto i corsi di rianimazione, per cui questo è il primo assoluto in Italia e il secondo in Europa dell'Europa. Adam ha aderito a questo progetto Arezzo Cuore e lanciato alla Fondazione Cesalpino. ben volentieri inserendo nel programma della sicurezza dei propri parcheggi delle stazioni di bike sharing l'installazione di alcuni defibrillatori. Poi successivamente altri, sempre in collaborazione con la Fondazione, verranno installati proprio nelle piazze più centrali della città.